Ma non avevo dubbi anche perché lo conoscevo perché gli portavo la posta e poi ne avevo sentito parlare quindi mi sono affidato a lui. Mi sono trovato benissimo ho constatato proprio che è la professionalità sua dei suoi collaboratori e poi oltretutto la gentilezza e la competenza che penso che sia quello che è basilare per un'agenzia di compravendita di immobili. Consiglierei non 100 ma mille volte perché come ripeto è professionale, è competente, ha dei buoni collaboratori e in più è riuscito a vendermi la casa in poco tempo, diciamo in due mesi e ha spuntato il prezzo più alto di quello che era il valore dell'immobile. Quindi direi che meglio di così non si poteva.